buongiorno buongiorno ok ha già timbrato il cartellino si 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 vedi sono già lavoro devo timbrare e ben ritornati che sono i vostri mino e mina e come vedete dal bellissimo cartellino di legno della dei minecraft vanilla perché esistono anche cartellini moddati non mi ricordo però comunque va bene come c'è scritto qua finiamo credo l'applied prima anzi iniziamo anche a fare qualcosina dell'impianto è perché va bene che ci faremo aiutare da qualcun altro della gilda ma cercheremo anche di fare da soli qualcosa perché cercheremo allora oggi l'ultima cosa mi sembra bisogna fare anche tutti i cavi cioè le me smart e le me dance cable qui ieri ho fatto le me chest che si potrebbe servire qualcosa però tanti mi dicono di no perché se ci abbiamo già le me drive comunque va bene io l'ho fatta se poi serve ve la faccio rivedere tanto è facilissima ragazzi è una è una cavolata però mi dicono che serve molecola assembler che ce l'abbiamo eccolo qui e le me interface con le me pattern terminal quindi ilaria sta facendo ora le me interface facendo te no no però non lo faccio ok le me interface faccio le me pattern pattern sì terminal eccolo qua che le me pattern terminal serve l'ingegner processo un engineering processo con le me crafting terminal e così via ma abbiamo già tutto pronto qui come vedete io uso le me devo fare l'interface e me interface interface bisogna andare a prendere un diamantozzo giù ebbè non abbiamo tanto no proprio zero rispetto alle altre cose ma il ferro si trova anche di meno non so perché a qui ho fatto altre due due della mecanismato cioè servivano tranquillamente non bisogna spiegarvi ragazzi sono facilissimi da fare uno e due eccolo qua è me pattern terminal fatto piu piu mi ha fatto quello che di più crafting maestro aspetta che voglio vedere qua io voglio vedere voglio vedere voglio vedere devo fare no questo dove 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 è eccolo lì crafting a storage cell ah sì quelli ti servono per forza bisogna farle no bisogna fare anche le storage cell ecco vedi che sono quelle che ti sa sono tipo i gli hard disk quindi ragazzi mentre io la fa quelle altre cose storage cell quali vedi ti cambiano no vedi 64k sono quelli avanzati ok quindi vuol dire che anche per questo è come i pannelli solari cioè prima c'è quello piccolo poi c'è quell'altro poi c'è quella 5 giga perfetto da 8 giga c'è quello da 20 mila per questo serve 4 1 e questo qui serve oh vado un po ma che culo bisogna prendere qui e logic processor ovviamente dai te lo faccio io ok vado a prendere giù tutte le cose quante te ne servono qui ragazzi abbiamo fatti un po cioè qui adesso già finiti però 1 2 3 4 credo servono questi non l'ho visto bene però eh i logic i logic processor mi servirebbero un po no ma non sono questi ah e vabbè perché non ce l'hai redstone dietro intanto prendi no bisogna farli con con silicone si c'ho anche il silicone no lascio lì ce l'ho io faccio lì portami la redstone 1 2 3 4 speriamo servano questi qui e non quegli altri che sono quegli altri ragazzi è un bordello 1 è un bordellone si ci 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 si va 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 ok fatto ecco ora voglio dire quante ne serve uno perfetto quartz glass i quartz glass c'erano si qualcosina c'era il quartz glass ma siamo pieni di quartz glass eccoci qua questo è mezzo e 3 di redstone e abbiamo fatto questo piu 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 facciamo altre celle cioè non mi basta un k credo te lo si cambiano ok bisogna fare questo per fare questo bisogna farne 10 ma perché non fai direttamente quelli da 64 eh per fare quelli bisogna fare questi ah va bene ma non ne avevo notato tipo vedi guarda vedi questo servono 3 mhm per fare questo vedi se vai a 16 te ne servono 3 per fare questo qui e questi ne servono 3 per fare da quelle 64 vedi? tutto così 4, 4, 5 ecco di qua 1, 2, 3 non funziona non funziona hai sbagliato qualcosa ah ma non serve il diamante serve il quarzo mentre mentre i semi stanno andando giù dico fuori vi faccio vedere come si fanno quei cosi che si alimentano per appunto farli far accelerare il processo dei semi e così ne facciamo ne facciamo un po' insieme allora di tutto servono 4 di questi vedete si fa questa cosa che è il flux block facciamo 2 e sono vero questi il crystal glow accelerator e servono mhm glass mhm glass quars glass quars glass quars glass che ce l'abbiamo quindi andiamo a prenderne 8 5, 6, 7, 8 e l'mhm glass cable non mi ricordo quanti ce ne servono si 4 e 8 di iron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perfetto lo facciamo altri 2 e allora questi no sono qua 1, 2 e 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 e 8 di questi 1, 2 1, 2 1, 2 eccoli qua eccoli qua hai complicato una missione si me le avevo ancora fatte le fatti te ah le avevo fatti io ok no l'ho presi comunque vedete ragazzi 88% solo con 2 quindi pensate se se ne mettevano altri cosa succedeva eccolo qua finiti ora qui vedete che sta esaurendo abbiamo cambiato cell però è un casino ehm bisogna trovare il modo di farlo andare qua infatti stiamo facendo un po' di un po' di di pannelli solari e niente questo lo mettiamo qua ehm li colleghiamo sono questi cavi sono le me glass si ok vado a prenderne altri intanto io rimetto dentro ma i li li sconnetterai quando non si usano si 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 qualsiasi volta si fa ok ecco qua tutto collegato ehm i cosi sono pronti eccoli qua e ora andiamo a fare quello che ci serve ovvero mettere dentro il l'escriber ehm con quale press serviva bisogna rifare bisogna rifare ma vabbè storage shell 4 ok ok questo e scrive calculation press ok ehm i cavo l'ancor li hai fatti? si ce ne sono 16 i cavo l'ancor ragazzi sono questi eh calve 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 ancor eccoli qui questi piccoli cosi ehm che servono a dividere ehm i cavi nel senso che se lo metto io fra un cavo e un cavo e quei cavi non saranno mai collegati e non servono per dividere praticamente se te c'è un cavo per aria si si beh anche per cioè è più che altro estetica si si però beh però serve anche per dividere cioè perché se non metto questo fra un cavo e l'altro si collegano da soli si noi lo utilizziamo per quel motivo certo certo perfetto ora ce l'abbiamo e possiamo andare a fare allora uno e mezzo questi così questo qua sopra e poi eh scusate questo qua sopra e questo e questo qua eccole qui quindi questi bisogna farne tre si per fare e per fare questo qui ok perfetto quindi ragazzi per oggi è tutto visto che stiamo finendo oh meno male eh meno male si perché non ce la facciamo più con questo cioè è troppo complicata eh eh si per noi che non la conosciamo mamma mia e niente per oggi è tutto spero vi sia stato utile questo video come sempre iscrivetevi al canale al canale di instagram e se volete supportarci soprattutto con i like ragazzi ma se anche volete donarci qualcosa comprate le nostre magliette così almeno non è che date i soldi per niente no riuscirete anche qualcosa in cambio e niente detto questo ci vediamo in un prossimo video da mini e mini ciao in tutto linea allo studio ciao ragazzi dai iscriviti al canale dai tu iscriviti dai mari 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 ciao tu iscriviti e aspetta qua Gabriele ciao ciao Grazie a tutti.